al boys, non so quanto ha, ha tre è una vecchia e questi, e questi chi sono? cioè la squadra di Cardi che è quella tedesca e quella rossa che non so vorremmo poi lo scopriremo se no come cazzo faccia mettilo online abbiamo messo una, hai capito? noi siamo più forti così, dispiace per i bestial boys che adesso pensano che però no, quello fa parte dello spirito della squadra devi dimostrare di essere così, se no non puoi parte parte però con questa barba, è che mi si farfugliano le parole anche di più del normale giac, io sono un farfuglione comunque ragazzi, questo game deve essere commentato in inglese perché non ci sono tanti italiani in là e alcuni di loro potrebbero capire i nostri giocati divertenti in italiano e per la scuola controlli su dei soldi nel portafoglio oh ti togli dal cazzo no dai devi rispondere male spara 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 te lo meriti bravo 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 tutto non tiО lo ritorno senni sei chi ha guarda Questa è una donna scappata da Bergamo C'è il contatto di Anna Frank Oh Cardi, la presa, grande Togliti, togliti, togliti Il rischio non è caduto Io ce l'ho un po' il problema Cerco sempre da andare avanti e guardo il dump troppo tardi Però vecchio non era avvenuto nell'errore Non è che dici questo ha causato il problema Il problema è che tu continui a sparare delle sardelle Nel vuoto, senza prendere le misure, senza fare scaldamento Un po' come facevamo noi l'altro Ah ma sai, quello lì, quello lì vecchio è... Io è da 24 L'anno scorso che sono venuti a revolvere, quest'anno tipo nove squadre, quant'è che c'è? 8 squadre No ma io l'ho sempre detto, la Mixer è del futuro Non ci sarà sicuro, però con la Wimed non ci sarà Ma da chi le hai avuto queste informazioni? Hai qualche personaggio all'interno del comitato? Lui, l'Olimpico? Sì, l'Olimpico E quindi dice che ci sono indiscrezioni? Che la Mixer è la categoria più apprestata alle Olimpiadi? Ma sì, perché effettivamente di sport dove giocano uomini e donne insieme non ce n'è molti Ma quasi insieme? No, cioè nel tennis lo fanno il doppio misto Oh ricordami saliti a Di Zipria che vai Adesso sono qua che mi sono minchiato col video Buon anno! Grazie 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 Riccardo Riccardo Io quei numeri li non riesco a capire Prendilo lì No Cardi vai lungo Vai lungo no Fotti delle time out 8-9 anni Ne avevano avuti tipo 12-13 Quindi il magnetico si è trasformato Cioè il momento di trasformazione è stato Proprio il pianto, liberatorio Ha pianto ed è diventato magnetico Vai lungo Cardi vai lungo Guardi Cardi Ha sbordato perchè Ricci si è tagliato un piede Ha pianto lì dopo 2 secondi Ha sbordato perchè Ricci si è tagliato un piede A metà Come sto male, gli è caduto il disco Guardate Ivan Vai lungo ca Guardate 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 Magneetico Fizio Infine a questo non succederà mai più Ma non sono vere Ti stai spingendo con le gambe No vai 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 Ah! Schifoso! Vai merda! No, era questa edizione di Vez video speciale Spara, spara! Vai lungo, guarda il dato! Guarda il dato! Anche me anche questa partita Come te lo meriti E' chi riprende dopo, non è chi riprende io, però più caldo Non è che gli fanno anche mettere in faccia Come sta bene! Sicardi! Sicardi! Il lachitico Spara! Spara! Teneteli in panchina! Beh, stavolta non è dato in positivo però ai Cardi questa partita No, Cardi non avrà proprio ingranata Come se lui non avesse mai iniziato il torneo No Adesso mettiamo sulla difesa scarotto La difesa scarotto sarebbe E' la Morosa dei Cardi Che sa incinocchiata Eh no, la Morosa dei Cardi sbacca Guarda come stavolta! Guarda come stavolta! Facciamo un balletto Facciamo un balletto Che c'è la mia tette che è E' la mia tette che è Non ha il culo però Non ha il culo Non ha il culo Chi gane E' la mia tette che stavolta Perfetto L'unica Voltman Chi? Che si chiama? L'unica Voltman Spielen l'autistico! Spielen! Spielen! Umer alles! Spielen! Comunque siamo come quei diapoletani che ci hanno qua a brinco Dai oh, dai facciamo un po' di tifo per lo sbombardone Oh no ragazzi! C'è gay Ah la coppa alla parola Dopo ci scriviamo da questo pindone Guarda non avete cardi Non lascia in giù Se lo toccherà, eccolo eccolo Adesso, 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 guarda, guarda, guarda IRRACHITICO Guarda, 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 guarda Guarda, guarda che va lì sul disco Guarda深o Guarda, 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 guarda Spara, spara Un sparone ha? Basta, basta quando sei chiuso lì ovvio che lo perderai noee a me la casa nooo nooo riccardi te l'ho detto da sparar e quindi non so ma che tu cos'è con la tua squadra o che è una scuola beh io li sono smessi di da quello ma quella dietro è una donna no vecchio era una cosa più simpatica era la vola bassa di questo fuori? era una sparalettica, una sparalettica non partiamo non partiamo non partiamo non partiamo alle 4 metri se ne treno non partiamo non partiamo non partiamo il pedos arriva che sta cercando sulle map guardi guardi il pedos sta cercando sulle map dove era stazio no smettiamo un cazzo guardi guardi controllo guardi guardi . stron Sì, all'inizio cos'era 0-0. Dico, a spararo! Io mi sono fatto due prime partite. Doviamo che andava in spazio. Sì. Sì, è un giaccio. Sì, è un giaccio. Cosa? 15 euro non. Cosa si dice ora no? Sì, è un giaccio. Sì, ma... Sì, è un spazio? Sì, ma quando hanno prenotato l'oro, Cardi? E tagliamo qui un'altra? Non è detto che tagliamo qui un'altra. E' ottimo, cazzo. Il prossimo, è un giaccio. Un'altra, 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 un'altra. Biasi, cazzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.